Per i turisti e per gli estimatori dell'artigianato artistico e delle nostre tipicità alimentari è stato aperto in Piazza delle Erbe a Vicenza un Temporary Store. Vediamo. In coincidenza con l'apertura della grande mostra verso Monet ha aperto i battenti questo fine settimana proprio a pochi passi dalla Basilica Palladiana uno spazio di esposizione e vendita di opere d'artigianato artistico e prodotti alimentari del territorio vicentino. L'iniziativa è della Confartigianato Provinciale ed è stata realizzata attraverso il centro espositivo Via Arte e il progetto Gustarti con l'allestimento di un Temporary Store situato nell'arinata Piazza delle Erbe al pianterreno dell'edificio a suo tempo occupato dal negozio De Bernardini. Sarà aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 festivi compresi e chiuderà a giugno al termine di un periodo in cui non mancheranno dimostrazioni di tecniche artigianali, degustazioni e piccole esposizioni tematiche legate a eventi come la settimana dell'artigianato, il festival di arte giapponese, Vicenza Jazz e festival biblico. L'obiettivo è quello di ribadire come l'artigianato artistico costituisca un patrimonio culturale unico, le cui botteghe sono il frutto di una tradizione secolare, depositarie di conoscenze materiali e immateriali radicate nei loro territori di appartenenza e difficilmente replicabili altrove. Al tempo stesso esse sono portatrici di valori universali in quanto produzioni attente al design, al progetto, alla storia. Una provincia da gustarti, specialità artigiane vicentine, è invece un'iniziativa nata nel 2010 dagli alimentaristi di Confartigianato Vicenza con l'obiettivo di promuovere la produzione agroalimentare locale. Le specialità provenienti da aziende artigiane e agricole della provincia sono confezionate dalla cooperativa Verlata Lavoro che opera per l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate. Marmellate, dolci, vini, grappe, insaccati, olio, formaggi, pasta tutti i prodotti della tradizione alimentare vicentina saranno a disposizione soprattutto degli ospiti in città per la mostra in Basilica, desiderosi di portare con sé anche un ricordo goloso della loro visita a Vicenza.